Ciao, buongiorno a tutti, io sono Maurizio Lennarduzzi e sono il titolare del cantiere nautico Marina Timavo. Perché Marina Timavo? Perché siamo a 10 metri dalle risorgive del fiume Timavo e quindi il fiume ha dato il nome al cantiere. Il cantiere nautico è l'unico cantiere presente sul territorio di Duin a Urisina, diamo un servizio a 360 gradi e di portisti, passiamo dagli alagi ai vari alla risoluzione delle problematiche dei vostri motori fuori bordo e entro fuori bordo e tutte le variabili che possono insistere su una barca, sia motore che avena. Siamo concessionari anche dei motori selva marine e delle imbarcazioni carniche, imbarcazioni di qualità prodotte e importate dalla selva da Cipro. Quindi se avete bisogno di ormeggi o altre problematiche che riguardano le vostre imbarcazioni siamo sempre qui a vostra disposizione, 365 giorni all'anno. Dimenticavo, d'estate se non avete una propria imbarcazione, vi diamo la possibilità di prendere anche natanti a noleggio senza patente. I motori sono nuovi, i 40 cavalli di selva, i motori più potenti oggi presenti sul mercato. Le barche hanno 6 metri e portano fino a 8 persone. Abbiamo tra l'altro degli itinerari da proporvi e quindi vi daremo tutte le indicazioni per trascorrere in maniera magnifica delle splendide giornate nel nostro Golfo di Trieste. Marina Timavo è sensibile anche alla questione ambientale. Siamo l'unico cantiere nautico ad essersi dotato di un'isola ecologica dedicata alla raccolta di rifiuti tossici e nocivi. Quindi se avete dubbi su dove conferire i vostri barattoli vuoti di antivicitativa potete venire qui da noi. Non abbiamo lo stoccaggio, abbiamo la raccolta differenziata e abbiamo anche il conferimento per questi rifiuti che fanno malissimo all'ambiente. Quindi a disposizione anche sotto questo aspetto. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!